Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione, oggi parliamo del Fitbit Lux, ultimo prodotto di casa Fitbit di cui abbiamo già visto tra l'altro altri tracker in precedenza. Video nelle schede come sempre e di fatto promosso anche questo mi è piaciuto molto per il design e le funzionalità smart che sono ulteriormente migliorate. Dà una mano a chi vuole tracciare i propri allenamenti, dormire in modo più equilibrato e sentirsi più riposato e tracciare tutte le notifiche del proprio smartphone. In modo semplice, abbastanza minimale tra l'altro e con tanto stile in quanto si ispira ad un gioiello nell'ottica del design. Andiamo a vederlo sia lato hardware, quindi quello che fisicamente andiamo a mettere al polso, sia lato software. Valore aggiunto in cui Fitbit di fatto è una delle migliori società sul mercato che aggiunge molto all'esperienza di utilizzo. Iniziamo. Partiamo dal tracker direttamente al polso, estremamente comodo anche per tante ore, anche durante l'attività. Il cinturino che esce in dotazione è semplice da utilizzare, possiamo sganciarlo in modo molto semplice, si adatta e fa presa anche se non lo stringiamo al massimo. Quindi anche per toglierlo ci mettiamo davvero poco. All'effettivo un tracker che ha uno schermo piccolino che però si mimetizza perfettamente con tutta la scocca. Varie watch faces, quindi quadranti che andremo a vedere tra poco e in uno spazio estremamente compatto racchiude davvero tutto. Perché come vediamo è molto piccolo, nella parte posteriore ha il sensore per il battito cardiaco, tutta la rilevazione dei dati e qui il caricatore è sempre proprietario, quindi utilizza questi contatti che troviamo nella parte posteriore. Nella parte frontale possiamo utilizzare il touchscreen che è reattivo al punto giusto e permette di settare molte funzionalità come un timer, varie applicazioni che troviamo appunto sullo smartphone. Possiamo personalizzare tutta l'interfaccia. Lo scorrimento è orizzontale e possiamo poi tornare, una volta che abbiamo fatto lo scorrimento totale, direttamente all'orologio. Quindi possiamo farlo sia a destra che a sinistra. Sulle notifiche abbiamo una schermata dedicata con il testo, quindi riusciamo a tenere traccia dei messaggi che ci arrivano sulle applicazioni anche di messaggistica. Possiamo dargli l'input di un allenamento, ma comunque se facciamo un'attività questa verrà comunque registrata automaticamente. Possiamo impostare delle sessioni di relax con la respirazione. Possiamo personalizzare il tutto direttamente anche dall'app che andremo a vedere tra poco. Inoltre voglio andare a segnalare la sveglia, perché la sveglia dispone di una funzionalità molto interessante. Ovviamente come tutti i modelli precedenti in grado di svegliarci in modo molto tranquillo tramite la vibrazione del tracker, però è presente una possibilità di ripetizione e l'attivazione della sveglia. Vado ad attivarla, una ripetizione a seconda dei giorni della settimana. Possiamo scegliere come vediamo dal menu. Tutto personalizzabile in poco spazio, quindi è stato progettato molto bene. Ma possiamo attivare la modalità di sveglia intelligente, che è un vero valore aggiunto dal mio punto di vista. L'ho utilizzata diverse volte anche in viaggio, perché quando andiamo a settare un orario per la sveglia, ci viene indicato che la sveglia verrà attivata durante la fase del suono leggero. Quindi questo significa che se io vado a settare l'orario delle 9 e un quarto, entro le 9 e un quarto, quindi nella mezz'ora precedente, se il tracker andrà a rilevare che mi trovo in una fase di suono leggero e quindi mi andrà a svegliare in modo più dolce, più tranquillo, mi sveglia magari anche leggermente prima in modo tale da evitare che io mi senta spossato o comunque affaticato dopo essermi svegliato appunto a quel determinato orario. Non è una funzione da poco perché tutte le volte che l'ho provata appunto ho riscontrato di essere effettivamente riposato, di non avere un po' di spossatezza o comunque un po' di affaticamento, nonostante magari mi ero alzato leggermente prima del tempo che mi ero prefissato. Quindi promosso da questo punto di vista smart. Questa è un'evoluzione software che però con la stessa rivoluzione dei dati dà un buon valore aggiunto a questo Fitbit Luxe. Qui c'è una notifica in ottica di messaggistica e vediamo che il testo viene poi adattato allo schermo che abbiamo a disposizione ma alcune volte è anche disponibile in movimento, quindi riusciamo a tenere d'occhio quello che arriva direttamente con il poco spazio a disposizione anche se stiamo guidando o se stiamo facendo un allenamento. Passando poi all'applicazione che va a completare l'ottima esperienza di utilizzo, come detto è una delle migliori disponibili nell'ottica del fitness ma anche proprio della registrazione delle proprie attività, quindi per i tracker ma anche per i smartwatch. Abbiamo tutti i dati disponibili nella schermata principale, quelli più importanti quindi relativi alla data odierna, i passi, i piani saliti, la distanza percorsa, le kilocalorie bruciate e lo stesso possiamo andare a vedere anche delle giornate precedenti. è tutto registrato direttamente sul nostro account, quindi anche se andiamo a cambiare dispositivo questo qua verrà automaticamente sincronizzato con i dati precedenti anche se cambiamo appunto telefono oppure tracker. Quando andiamo a fare un allenamento viene avviato automaticamente, come detto prima, anche se io non ho avviato manualmente la registrazione. Troviamo la gestione dello stress che è una novità introdotta ultimamente, che ci permette di tenere traccia, ovviamente non in ottica medica ma per avere un riferimento, la nostra situazione nell'ottica di una serie di parametri relativa appunto allo stress. Quindi possiamo capire se ci stiamo affaticando troppo alcune volte, non solo nell'attività fisica, e può essere un ottimo strumento, assolutamente da provare. Nella parte inferiore troviamo quello che riguarda il nostro sonno e viene attribuito un punteggio a come andiamo a dormire, anche per avere un riferimento diretto della qualità del nostro riposo. Quindi possiamo andare a vedere se in base agli orari a cui andiamo a dormire, in base al letto in cui ci andiamo a mettere, nel mio caso ho viaggiato, quindi ho cambiato spesso location, in base ai parametri, nel modo in cui ci svegliamo la mattina, ci viene attribuito un punteggio che è relativo anche alla durata del sonno e ci viene a dire cosa possiamo andare a migliorare. Ovviamente come sempre possiamo andare a vedere quanto tempo è stato un sonno quasi sveglio, un sonno leggero, sonno in fase REM oppure un sonno profondo. E possiamo avere un grafico che ci mostra direttamente tutti i valori di ogni singola fase del nostro sonno, per avere un riferimento diretto se stiamo dormendo bene, riposando bene oppure no. Questo ovviamente se abbiamo delle difficoltà, se ci sentiamo stanchi, può essere un parametro di riferimento, ci può aiutare sicuramente. Per quanto riguarda i dati che abbiamo appena visto, viene registrato quando siamo andati a metterci a letto e quando ci siamo alzati, con il riepilogo che abbiamo appunto appena visto. Con il più possiamo andare a inserire manualmente se invece andiamo a dormire in un determinato momento. Quindi se la rilevazione non viene fatta, andiamo a vedere che per esempio sull'applicazione qualcosa non è stato registrato, possiamo anche inserirlo manualmente. Poi in base ai dati raccolti l'app tramite il tracker va a ricostruire la qualità del nostro sonno. Possiamo fare delle sessioni di relax, possiamo scegliere quali possono essere le nostre metriche di salute, quindi quali sono le nostre tendenze e avere dei dati sempre più elaborati assieme al battito cardiaco, al numero di passi che facciamo, ovviamente anche magari un obiettivo di peso se vogliamo andare nell'ottica più sportiva. Registrare là anche l'acqua che beviamo per sapere se in base al nostro peso e in base alla nostra altezza che inseriamo all'inizio stiamo assumendo la giusta quantità di acqua ogni giorno. Questo vale anche per gli alimenti. Nella sezione scopri possiamo trovare tutta una serie di attività o sfide che ci possono andare a motivare per migliorare la nostra attività fisica oppure confrontarci con la comunità. Quindi se abbiamo degli amici, se abbiamo delle altre persone, un gruppo di persone appunto nell'ottica di Fitbit possiamo entrare in competizione con loro e essere come sempre motivati appunto magari a fare di più. In più ci sono come sempre, è tutto un po' messo nell'ottica della gamification, è possibile raggiungere varie obiettive e sbloccheremo determinate medaglie. In ultimo vado a sottolineare la presenza dell'abbonamento premium perché nel Fitbit Clux sono inclusi 6 mesi di Fitbit premium. La funzionalità premium permette, come vediamo, di gestire meglio lo stress, quindi con un'analisi dedicata, di semplicemente registrare più dati e avere una diagnosi o comunque una registrazione delle nostre attività in modo più completo, quindi che può essere quello del pannello delle metriche della salute, strumenti avanzati nell'ottica del sonno e consigli personalizzati. 6 mesi sono tanti, come vediamo il costo è importante, sono 9 euro al mese, ovviamente non si tratta di una cifra molto elevata o possiamo risparmiare con l'abbonamento annuale. Con 6 mesi gratuiti diciamo che andiamo a prendere un pacchetto che ha un valore effettivo commerciale di almeno 40 euro. Nel prezzo del Fitbit Clux che vi lascio in descrizione possiamo anche associare questo valore ricevuto in relazione al prezzo. Nel link in descrizione come sempre c'è la migliore offerta disponibile. Vado a tirarvi le somme come vi ho anticipato, dunque si tratta di un dispositivo che va molto nell'ottica estetica come tracker e mi sono trovato molto bene effettivamente anche per la gestione delle notifiche. Se non voglio andare a comprare uno smartwatch credo che possa andare ottimamente per la misurazione delle attività per la registrazione anche approfondita soprattutto con il profilo premium volendo dei nostri allenamenti quindi per tenere traccia a tutte le calorie che andiamo a bruciare e come andiamo a riposare insomma per il nostro stile di vita. È un investimento nell'ottica appunto del miglioramento della qualità della vita in base alla nostra anche attività fisica e credo che possa andare bene. È tutto poi studiato anche nella forma compatta per essere, per sembrare un po' più prezioso quindi è stato fatto un lavoro molto importante nell'ottica del design. Non a caso vi ho detto che mi è piaciuto molto esteticamente. Non ho avuto problemi a portarlo al polso, è estremamente leggero e fa anche diciamo la sua figura appunto in ottica di design quando lo indossiamo. In ultimo andiamo a vedere il software specifico per i Fitbit Lux perché dall'applicazione una volta collegato possiamo personalizzare l'esperienza di utilizzo. La cosa importante comunque era l'app in sé per sé perché i dati raccolti vengono poi rielaborati e resi disponibili in qualsiasi momento come vi ho fatto vedere. Possiamo sincronizzarlo manualmente, possiamo scegliere quali sono i criteri di notifica anche per le chiamate e quale deve essere l'applicazione che deve inviarci per esempio le notifiche sull'email quindi Gmail, Outlook, se ne andiamo a inserire delle altre ci appariranno nella lista. Possiamo scegliere poi quali possono essere le notifiche che dobbiamo ricevere sul nostro polso quindi possiamo abilitarle per le app che vogliamo e quindi fare un filtro sul numero di notifiche che ci arrivano al polso e tenere volendo la vibrazione attiva quando riceviamo appunto le notifiche. I guaranti disponibili sono tanti, io ho lasciato uno di quei là iniziali perché comunque mi piaceva dal punto di vista estetico ma ce n'è davvero per tutti i gusti. In più abbiamo una serie di applicazioni che possiamo settare come vi ho fatto vedere e direttamente sulla sveglia per esempio questa qui di cui vi ho parlato per la sveglia intelligente noi troviamo varie altre e possiamo andare anche a personalizzare il loro settaggio sul Fitbit quindi l'ordine in cui ci vengono a mostrare come sono disponibili quando andiamo a toccare il quadrante. Il tutto poi direttamente richiamabile come vediamo dall'applicazione e quindi andare a vedere quali sono tutte quelle installate nel riepilogo del Lux abbiamo un tutorial su come fare l'utilizzo oppure possiamo associare determinati accessori se necessario. In ultimo per quanto riguarda gli allenamenti possiamo settare fino a 6 diversi allenamenti da monitorare sul Lux quindi tenere d'occhio poi personalizzare l'ordine dei tipi di allenamento da selezionare quando andiamo ad avviare appunto una sessione. È tutto molto personalizzabile, le funzionalità principali funzionano ottimamente e quindi per questo che lo promuovo e lo consiglio come detto a chi vuole qualcosa di compatto e non vuole prendere uno smartwatch. Quindi spero che questa review vi sia piaciuta e fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate con un commento qui sotto oppure direttamente su Instagram e lasciate un like al video se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime recensioni. A me non resta come sempre che salutarvi e noi ci vediamo al prossimo video.